Morta in solitudine, rinvenuto il cadavere mummificato di una donna, la macabra scoperta questa mattina in un appartamento nella zona del porto di Trapani, disposta l'autopsia. Cimitero parla il dirigente, dopo le polemiche dei giorni scorsi susseguite alle estimulazioni annunciate e messe in atto dall'amministrazione cittadina interviene il dirigente di settore del comune. In scena allo stagnone, ieri sera lo spettacolo di Simone Cristicchi, esodo a Massaro. Buonasera e ben trovati, abbiamo sentito i titoli, partiamo subito con tutti i servizi, il cadavere di una donna è stato rinvenuto in una abitazione nella zona del porto di Trapani, la procura ha disposto l'autopsia, vediamo il servizio. Da oltre due mesi non dava più sue notizie, era morta nella solitudine della sua casa, questa mattina la macabra ha scoperto, il cadavere mummificato di una donna di 45 anni è stato rinvenuto in un appartamento nella zona del porto di Trapani. L'allarme è scattato in vicolo dei Normanni che si apre sulla via Ammiraglio Staiti di fronte al terminal degli alescafi per la isola Eladi. Lì è intervenuta la polizia in seguito a una segnalazione fatta dai vicini di casa. Ad attirare la loro attenzione la puzza che proveniva dall'abitazione, entrati dentro gli agenti della squadra volante, hanno rinvenuto il corpo senza vita. La donna viveva da sola da quando si era separata dal marito. Sembra che avesse anche tagliato i punti con i parenti, soffriva di crisi depressive. Probabilmente colta da malore non avrebbe fatto in tempo a chiedere aiuto. Per il medico legale che ha eseguito l'ispezione cadaverica si tratterebbe infatti di una morte naturale, ma la procura vuol vederci chiaro e ha disposto l'autopsia per stabilire le effettive cause del decesso. Oltre al malore, sembrerebbe ipotesi più plausibile, non si escludono pertanto altre piste. La radioterapia a Trapani, una notizia che si aspettava da 14 anni e adesso potrebbe finalmente diventare realtà. Vediamo perché. 300 firme, quelle raccolte dal Comitato per la Radioterapia a Trapani, consegnate stamattina al commissario straordinario dell'Asp, una vicenda che si protrae da 14 anni circa e che adesso pare arrivare ad una conclusione. Nel corso dell'incontro di stamattina infatti il commissario dell'Asp, Vincenzo Spera, ha dato più di una speranza. Ascoltiamo intanto la portavoce del Comitato, la giornalista Marisa Danna. Noi abbiamo costituito questo Comitato già un anno fa perché cerchiamo di portare avanti questo progetto che non è un progetto, è quello di riportare la radioterapia a Trapani. Sono 14 anni che questa storia della radioterapia va avanti e che non si è conclusa per tutta una serie di vicissitudini che chiameremo un po' politiche ma anche burocratiche. I fondi che erano stati stanziati per la radioterapia sono stati distratti per altre finalità. Quando erano arrivati questi fondi, che erano circa 14 milioni di euro, che servivano per realizzare questa palazzina adiacente all'ospedale, c'è già il terreno ad hoc per lo scopo e non si è mai arrivati alla conclusione di questa procedura che come ci rendiamo conto è importantissima per tutta la sanità trapanese, per tutta la provincia. Oggi siamo qui in ospedale perché vogliamo anche coinvolgere direttamente i soggetti attivi che sono anche il commissario straordinario in particolare e vogliamo avere una risposta su questo iter quando verrà concluso e quando questi fondi verranno finalmente destinati alla realizzazione di questo reparto. Una protesta legittima quella del Comitato. A dare speranza però, lo ribadiamo, arriva la dichiarazione dell'ingegnere Spera, il commissario straordinario dell'ASPO. I fondi in parte ci sono, che sono quelli dell'articolo 20 della legge 67 e l'88, ma a questi mancavano altri ulteriori fondi che erano stati messi durante l'emergenza Covid e poi sospesi in attesa di trovare copertura finanziaria. Oggi vi posso dire che l'assessore regionale della salute è da me più volte sollecitato in questo ed è stato molto sensibile alla tematica, ha sbloccato i fondi, gli 11 milioni ci sono, aspettiamo adesso materialmente i decreti di finanziamento che vengono ammessi e vengono fatti subito. Quanto prima già c'è stato l'incontro tra il dottore Falgares della programmazione della regione insieme ai tecnici dell'assessorato alla salute, la copertura di 101 milioni c'è per tutta la Sicilia in cui ci sono gli 11 milioni che sono proprio quelli della radioterapia che ci servono per completare il padiglione. A questo si aggiungono pure il completamento del padiglione di Marsala, della terapia subintensiva per le malattie infettive e ai 900 mila euro anche di Mazzara del Vallo. Sono stati sbloccati tutti assieme, a breve arriveranno i finanziamenti e su questo inizieremo le procedure di cara. Dopo le dure polemiche di questi giorni, circa le novità riguardanti il cimitero, interviene sull'argomento il dirigente di settore del Comune. Le polemiche di questi giorni sulle questioni cimiteriali necessitano certamente di spiegazione ed approfondimenti. Sono con il dottore Orazia Menta che è il dirigente che si è preso carico di trovare una soluzione per le stimolazioni dell'esame e soprattutto per dare dignità ai nuovi morti che abbiamo nel cimitero di Trapani. Troppe polemiche, ingegneria Menta. Qual è la spiegazione semplice che possiamo dare ai cittadini su questo provvedimento molto contestato? Intanto è la legge che prescrive di fare le stimolazioni quando non c'è la disponibilità di Loculi e quindi è una normale prassi che le grandi città, a cominciare da Palermo e altre città sia siciliane che non, hanno adottato. Noi come ufficio l'unico criterio che conosciamo oggettivo è quello dell'ordine cronologico. Tra l'altro purtroppo registriamo che anche nei gruppi antichi, come il gruppo Tilotta, da anni avvengono le stimolazioni e nuove tumulazioni anche recenti senza che nessuno abbia mai sollevato polemiche. Quindi non dovrebbe essere una novità per la città. Comunque se è un bodo anche per fare il punto della situazione sulla storia, su personaggi eccellenti di cui noi non abbiamo notizia ma siamo ben lieti di aprirci al confronto con chi magari scindicherà chi ha particolari meriti per cui quella salma non vada estumulata e invece va rivista. Leggendo l'ordinanza non mi è sembrato di leggere tra virgolette l'autorizzazione della sovrintendenza per le lapidi cosiddette storiche. Noi non abbiamo, come dire, non c'è un vincolo sulle lapidi particolarmente storiche. Naturalmente noi prima di ogni estumulazione avvertiamo e comunichiamo alla sovrintendenza quali sono le lapidi che vanno tolte. Evidentemente una cosa volevo dire che tutte le estumulazioni, i resti mortali saranno conservati in cassetta e tutte le lapidi verranno conservate perché a futura memoria anche un domani un progetto di valorizzazione della memoria possa avere con gli spazi, con i tempi e con le risorse dovute una possibilità. L'avvocato Vincenzo Maltese, consigliere comunale di Erice, ha inoltrato una nota al commissario straordinario del Libero Consorzio, evidenziando diverse criticità sul tratto di strada della SP20, la via Enea, che attraversa tutta la parte abitata dalla località di Pizzolungo, segnalando pessime condizioni di sicurezza. Vediamo. Diversi gli aspetti sollevati da Vincenzo Maltese nella sua nota, a partire dai blocchi di cemento rimossi dallo spartitraffico centrale che si trovano da mesi sul marciapiede all'altezza della seconda rotonda. Ma ci sono anche delle bacchette di ferro, ha ricordato il consigliere comunale di fronte comune, ormai arrugginite sempre nello spartitraffico che divide la strada e due cassette elettriche sovrapposte in modo precario e rimuovibili poste sul marciapiede all'angolo della via di Dona. Inoltre, ha rimarcato Vincenzo Maltese, mancano ormai le strisce pedonali e il tratto che va dalla prima rotonda alla terza manca assolutamente della segnaletica verticale e luminosa di attraversamento pedonale. Pertanto, conclude l'Avvocato Maltese, vista l'imminente stagione estiva e con i trasferimenti delle famiglie nelle case di villeggiatura per evidenti ragioni di sicurezza stradale, vista la competenza dell'arteria stradale che ricade sul libero consorzio comunale, il consigliere comunale Ricino ha chiesto che vengano posizionati quanto prima a norma del codice della strada i cartelli verticali e luminosi di attraversamento pedonale con rifacimento delle strisce, oltre a mettere in sicurezza tutta la linea di mezzeria che divide la via Enea. A Custonaci l'impianto sportivo è stato intitolato a Don Rosario Vanella. Molto partecipata dalla comunità di Custonaci ha partecipato tra gli altri il sindaco di Custonaci, Giuseppe Morfino, i rappresentanti delle forze dell'ordine, esponenti di diverse associazioni e Don Antonino Marrone. Il parroco ha ricordato proprio come Don Rosario, nei suoi 48 anni di servizio pastorale al santuario Maria Santissima di Custonaci, da prete e guida spirituale della comunità a lui affidata, si sia adoperato tantissimo per lo sport giovanile, mettendo a disposizione spazi e tempi. Come sottolineato da Caterina Noto, catechista e presidente del Circolo Acli di Custonaci, Don Rosario Vanella riteneva lo sport elemento fondamentale per la crescita sociale, relazionale, associativa e quant'altro di positivo ci possa essere per la formazione integrale dei giovani. Negli anni 60 Don Rosario Vanella, che arrivò a Custonaci nell'agosto 1964, fu promotore dei tornei di calcio tra alunni della scuola elementare. Le sue parole erano, il calcio e tutto lo sport accomunano e sono sprint per condurci a Dio e alla sua chiesa. Iniziativa questa mattina alla Teatro Arison, promossa dall'UDI con il patrocinio della Comune di Erice dedicata al treno della memoria. Ai nostri microfoni, Valentina Colli, presidente dell'Unione Donne di Trapani, ha fatto il punto su come è andata e dell'esperienza fatta dai ragazzi durante il loro viaggio a Caracovia e Berlino. Vediamo. Il treno della memoria parte per la seconda volta e mezza, nel senso che la mezza volta il Covid ci ha bucato le ruote nel 2020 e nel 2021. Quest'anno siamo riusciti a ripartire benissimo, perché abbiamo raddoppiato i numeri della partecipazione dei ragazzi rispetto alla prima edizione, nonostante invece abbiamo dimezzato gli aiuti da parte delle amministrazioni, che io sottolineo sempre, non è che non hanno voluto, ma non hanno materialmente potuto grazie alla crisi. La comunità che si sta strutturando attorno a questo progetto, la comunità scolastica, la comunità dei ragazzi che si sta strutturando attorno a questo progetto, cresce di giorno in giorno con grandissima consapevolezza e inizia davvero a trovare una struttura anche autonoma sul nostro territorio. Il viaggio è stato benissimo, sono stati una settimana tra Berlino e Caracovia. Certo non è chiaramente un viaggio di istruzione, ma è una grandissima esperienza emotiva di cittadinanza attiva, perché quello che i ragazzi riportano non è soltanto un viaggio, ma è un impegno per il futuro a ricordare quello che è stato e fare sì che non succeda più. Questo è tutto, io mi fermo qui, la linea adesso va allo sport, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.